Uno spiacevolissimo inconveniente per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che proprio quest'oggi sarebbero dovuti rientrare a Milano dopo la vacanza in Sicilia. L'attrice, che ha mostrato al fidanzato i luoghi in cui è nata e cresciuta, ha comunicato ai fan la disavventura vissuta in aereo che ha scombinato i piani della coppia. Oggi sembra davvero un film. Siamo bloccati sull'aereo a causa dell'eruzione dell'Etna, così ha esordito l'ex Geffina nel suo lungo sfogo, pubblicato tramite le stories di Instagram. La Cannavò ha spiegato agli utenti che l'eruzione del vulcano li sta costringendo in aereo, nell'attesa di sapere se la partenza dovrà essere posticipata o meno. Come se non bastasse, il comportamento di uno dei passeggeri ha contribuito a peggiorare la situazione, già di persa tesissima. A ciò si aggiunge l'intelligenza di un passeggero che, nonostante i divieti, pensa bene di fumare sull'aereo, ha proseguito la Cannavò. Una disavventura senza dubbio spiacevole per Rosalinda e Andrea, che sperano di rientrare a Milano il più in fretta possibile.